Il forte evento sta interessando la regione Marche dalla giornata di lunedì con raffiche molto intense dalla costa fino all'entroterra. Nella città ducale una studentessa dell'istituto tecnico commerciale è rimasta ferita da un pannello in legno che si era staccato da una finestra dell'edificio. La giovane è stata medicata da un'equipe del 118 e si è subito ripresa ma i suoi compagni della terza C oggi hanno protestato per gli infissi obsoleti che lasciano filtrare area fredda e rappresentano un serio pericolo. Sempre in mattinata un palo della telecom è stato divelto nella località delle Cesane in via Monte Bagnato a 5 km dal centro di Urbino. Nonostante il danno non ci sono state interruzioni del servizio telefonico. La superstrada 77 è stata invece chiusa al traffico dalle 4 alle ore 6 a scopo precauzionale. Il vento aveva battuto un grande cartello stradale all'attezza dell'uscita di Monte Corsaro in provincia di Macerata lungo la carreggiata mare. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. I vigili del fuoco della provincia di Pesora dopo aver eseguito 21 interventi nella notte hanno proseguito senza sosta per tutta la giornata. In particolare i pompieri sono stati impegnati nella rimozione di alberi, rami caduti in strada, tegole e insegne pericolanti. Per i prossimi giorni le previsioni meteo indicano un cambiamento drastico delle condizioni meteorologiche perché sono in arrivo correnti di aria artica che porteranno un brusco calo delle temperature anche di oltre 10 gradi.